Mi domando che gusto ci sia oggi a fare dei figli se non puoi educarli, perché l'educazione viene confusa con il maltrattamento. Da tempo si discute se il concepito, l'embrione, abbia più o meno diritti giuridici. Ma nel frattempo chi riesce a nascere ne acquisisce troppi. La proposta genitoriale oggi è molto simile a quella che venne fatta tanti tanti anni fa ai servi della gleba. Il già nato nemmeno parla, che già sceglie cosa mangiare, cosa indossare, cosa guardare in tv prima di andare a dormire. Qualora ci voglia andare a dormire ovviamente, e nel lettone. Un bambino che dorme nel lettone resterà primogenito per sempre, lo sapevate? Il bambino sceglie dove andare a scuola, con quale sport distruggere il weekend a chi lo mantiene. Chi lo mantiene quel personaggio genitoriale che continuerà a mantenerlo almeno fino ai 36 anni. Quel bambino che si continua a servire anche da remoto, subendo le chat delle mamme che ci dicono essere obbligatorie. Sì, anche facendogli un bonifico poi da grande per pagargli la sua stanza a Londra. Sotto questo aspetto ecco perché si considera forse l'embrione nemico numero uno della società. Ma il vero nemico è il già nato. Una piccola persona che non accetta il no, che disegna sui libri, che si fa trasportare fino a 10-11 anni sul passeggino pur avendo le gambe, che costringe i suoi a dire frasi tipo Eh no, non possiamo venire, come facciamo? Abbiamo il bambino. Ma non è una malattia. Una piccola persona che morde in faccia cani, fratelli, che grida per ottenere i diritti e li ottiene, mica come noi. Se non fosse un bambino, chi vorrebbe frequentarla? Una persona così presuntuosa. E poi perché bisogna frequentarla e includerla solo perché è un bambino? La nascita di un bambino sappiamo più o meno tutti come evitarla, ma i soprusi con cui ci affligge una volta nato possiamo difenderci? Almeno fino a quando non si emancipi. Quando si emancipi? Quando prende l'eredità.